Abbiamo parlato di evento rampante, proprio come rampante il cavallino della Ferrari, ma come nasce il marchio del cavallino? Questa curiosa storia ci riporta ad un altro evento in corso, che è il centenario della prima guerra mondiale. Sentite un po' le coincidenze della vita. Francesco Baracca è il nostro barone rosso, l'asso degli assi dei cieli nelle battaglie della prima guerra mondiale. Lui fece disegnare un cavallo rampante come simbolo sul fianco del suo aereo, lo stesso cavallino rampante che oggi è conosciuto in tutto il mondo come marchio Ferrari. Pensate che fu proprio la mamma di Francesco Baracca a concedere personalmente l'utilizzo di questo storico emblema ad un giovanissimo Enzo Ferrari. Mi viene proprio da dire che il cavallino ha portato fortuna, perché ha accompagnato la storia di due miti.